E salve a tutti ragazzi di AlfaTech e benvenuti in questo nuovo video. Nel precedente abbiamo parlato delle tipologie di tecnologie che permettono l'accesso alla rete internet. Abbiamo visto ad esempio ISDN, ADSL, VDSL e quant'altro. Oggi andremo a parlare delle tipologie di accessi puramente fibra. Quindi tecnologie completamente in fibra, nel particolare nel campo consumer, ovvero nell'FTTH. Andremo a analizzare principalmente due tipi che sono quelli che andremo a vedere, ovvero l'AON, che sta per Active Optical Network, e la PON, la più ultimamente e comunemente utilizzata, andremo a vedere anche il perché, ovvero la Passive Optical Network. Iniziamo dicendo che la prima è stata, diciamo, la prima ad essere, cioè l'AON, la prima ad essere implementata ed utilizzata principalmente in origine da Fastweb, come nel caso dello scenario italiano, dove troviamo appunto la rete definita, comunemente la rete Catalyst di Fastweb, proprio perché utilizzava degli switch Cisco Catalyst come nodo di smistamento del traffico, e prevedeva una connessione in fibra attiva, quindi costantemente, con switch costantemente alimentati, tra la centrale, il nodo, il pop del cesso dell'operatore, fino al cliente finale. Quindi si aveva la tratta definita primaria, quindi tra il pop e, in questo caso, lo switch Catalyst in fibra, e poi dal Catalyst ripartiva una connessione in fibra fino all'utenza del cliente finale, in cui poi veniva posizionato la borca di conversione ottico-elettrico per portare il segnale ottico in segnale elettrico, comunemente terminava in un connettore RG45, con un classico cavo Ethernet, poi si collegava al router in dotazione. La punta negativa di questa tipologia di rete attiva, ora io mi riferirò a quella, a quella rete Fastweb, ma vale per tutti i tipi di rete creati con questo schema, deriva dal fatto che necessita appunto di switch fibra attivi, quindi vi è un consumo innanzitutto elettrico costante, e poi, essendo questi switch posizionati vicino all'utente finale, appunto per permettere poi l'arrivo di un semplice cavo fibra fino allo switch, poi di ramare la rete senza avere una grande quantità di fibre spaiate che partono direttamente dal pop, cosa c'è sta che la corrente in questione deve essere portata fino vicino a casa dell'utente. Spesso questi Catalyst saranno posizionati per esempio in cantine di palazzi, di condomini, quindi vi era la necessità di portare un corrente elettrica fino addirittura a questi condomini, e questa architettura poi diventava anche più complessa quando si andava a realizzare una connessione, ad esempio in zone con per esempio case sparse o comunque unità abitative singole, in cui il Catalyst doveva essere posto all'esterno, e quindi si realizzava una rete molto simile per certi aspetti di complessità, quella che potrebbe essere la rete FTTC attualmente presente. Però consideriamo che queste reti sono nate magari intorno al 2002 nelle grandi città, quindi parliamo di un po' di tempo addietro, insomma, forse non c'era, cioè ancora non era un segnale, non era un segnale, scusate, molto diverso da quello che è quello dell'FTTC in questo momento, ad esempio. Dalla quindi, dalla rete Aon, che in Italia tra l'altro è attiva solamente dove è rimasta a 100 megabit, questa era la velocità fornita da Fastweb al tempo, si è emigrati alla rete PON, alla Passive Optical Network, quindi specificamente era per semplificare appunto la tratta di trasporto dal POP all'utente finale. La prima rete PON, diciamo, all'accesso per l'utente finale, lo troviamo sulla rete MetroWeb, che è presente, ed era semplicemente, a differenza della rete di Fastweb, era una rete neutra che veniva poi affittata, diciamo, resa a disposizione degli operatori, qualora volessero rendere disponibili servizi, tramite accordi appunto con quella che era MetroWeb. Quella che era, perché attualmente MetroWeb ovviamente è confluita in open fiber, e poi andremo a parlare degli sviluppi successivi. La tecnologia di Passive Optical Network prevede un sistema di switching passivi, quindi che non richiedono alimentazione, e che vengono solitamente posizionati in strada come dei normali armadi di permutazione, come potrebbero essere ad esempio i cabinet di telecom, quindi necessita comunque di un livello di divisione e di raccordo verso l'utente, però diciamo che solitamente è passivo, quindi non richiede alimentazione, ed ha quindi una gestione più semplice da questo punto di vista. In particolare quando poi si parla di PON occorre anche citare il wave division multiplexing, che è il metodo che si utilizza per permettere su un singolo cavo fibra, che è quello che arriva all'utente, una singola fibra, di poter effettuare upload e download simultanei. Quindi si utilizza la divisione di frequenza per poter coesistere un segnale, diciamo, in downlink e in uplink sul medesimo cavo fibra. Quindi questo principalmente è il metodo con cui si lavora quando si è messo in una singola fibra. Tra l'altro la rete PON è divisa in due principali, cioè sono due principali scrate evoluzioni divise per velocità. la G-PON, che è quella che si utilizza ed è in sviluppo attualmente, diciamo, in Italia, che si tratta di Gigabit Passive Optical Network, quindi la classica rete di accesso che ci permette di accedere a una velocità fino a 1 gigabit, e la XG, Passive Optical Network, scusate, in cui si parla già di 10 gigabit. Quindi più o meno queste sono le tecnologie attualmente impiegate, ovviamente si parla nel trasporto verso un servizio di accesso all'utente finale. Diversi poi sono in casa di, magari, reti locali o altre tipologie, insomma, di reti. Ecco, questo è importante che sia chiaro il focus, ovviamente, dove ci stiamo puntando. Quindi diciamo che questi sono gli scenari che abbiamo attualmente visto, e diciamo che principalmente le tecnologie utilizzate sono queste. Ora, attualmente, per contestualizzare un attimo queste tecnologie, nel piano storico, come dicevo, troviamo la nascita dell'Aon ai tempi delle reti Fafba Catalyst, che poi si sono evolute anch'esse in reti PON, in particolare G-PON, che quindi permettono anche l'upgrade delle attuali Aon a 100 megabit in reti gigabit, quindi c'è questa evoluzione a reti gigabit, e quella che attualmente è in diffusione è la reti G-PON a 1 gigabit, anche grazie a quelli che ora sono bandi infratel, fondi distanziati, copertura tramite OpenFiber. Perché, come c'ho prima, la metro web che prima citavo, e che magari qualcuno, se si trova in gran città, per esempio, se cito Milano, ma anche Bologna, ad esempio, magari avrà conosciuto, ora è confluito in OpenFiber, quindi ora la troviamo comunemente nella rete di OpenFiber. Per ora le evoluzioni tecnologiche sono queste, non so se nel breve ci saranno evoluzioni a livello di utente finale, perché comunque già, scusate, la G-PON gigabit permette comunque una velocità abbastanza alta di accesso all'utente. Se si pensa che si salta da quelle che possono essere le comuni 100 megabit, 200 megabit nei casi più fortunati. Poi qui entra un discorso, magari, che potremmo affoltare in un altro video di distanza dal cabinet, e quindi si va poi ad evolversi in magari reti che non sono effettivamente 200 megabit, quindi potrebbero essere anche le 100 megabit, potrebbero essere da 100 megabit arrivare a 40, 50 megabit effettive, le 200, diventare magari a causa di distanza un comportamento simile alle 100 megabit. Quindi comunque c'è un netto salto da una teorica 100-200 megabit a una gigabit. Si parla di un aumento di quasi 10 volte circa, in base poi uno all'effettiva velocità che ha. Quindi sì, c'è una discreta evoluzione, e questo più o meno è lo scenario delle reti di distribuzione FTTH. Se questo vi è piaciuto vi invito a mettere un bel mi piace, altrimenti fatemi sapere nei commenti che cosa non vi è piaciuto, se volete chiarimenti, altre curiosità, scrivetelo sotto nei commenti. E niente, un saluto da Andrea per Alphatec, e ci vediamo in un nuovo video. Grazie. Grazie a tutti.